Ergastolo per Samuele Caruso, 24 anni, l'assassino reconfesso di Carmela Petrucci, la studentessa 17enne palermitana, ucciso il 19 ottobre 2012 nell'Androne di Casa. Dopo oltre tre ore di Camera di Consiglio, il GUP del Tribunale di Palermo, Daniela Cardamone, ha emesso la sentenza di condanna a vita per l'imputato, accogliendo la richiesta del PM Caterina Malagoli. Il giudice non ha concesso le attenuanti generiche e ha mantenuto ferme le contestazioni dei futili e abbietti motivi. La difesa oggi nella ringa va puntato sull'infermità mentale del giovane. Caruso uccise Carmela Petrucci e ferì gravemente accoltellata la sorella Lucia, presente alla sentenza insieme con i genitori e il fratello. Giustizia è fatta per la povera Carmela Petrucci, ha detto dopo la sentenza il PM Caterina Malagoli. Non appena il giudice ha letto il dispositivo, la mamma di Carmela, Giuseppina Mercurio, si è seduta e ha pianto.